Montesilvano fa un passo in avanti verso il futuro con la fibra ottica di Open Fiber, la società guidata da Elisabetta Ripa, cablerà in totale 17.000 unità immobiliari entro il 2020, come ci dice il manager regionale per l'Abruzzo e Molise, Marco Pasini. Grazie anche alla forte collaborazione che c'è stata con l'amministrazione del Comune di Montesilvano, oggi possiamo annunciare che inizieranno presto i lavori per il cablaggio di circa 17.000 unità immobiliari in tecnologia FTTH, ossia Fiber to the Home. Con questa attività, con questa nuova infrastruttura, si riusciranno a raggiungere velocità in download all'intorno del gigabit al secondo, quindi è un'innovazione altamente che supera di molto le attuali velocità che consentono gli operatori attualmente in campo. Con l'amministrazione stiamo firmando una convenzione che ci permetterà di iniziare presto i lavori utilizzando anche i cavidotti della pubblica illuminazione. Prevediamo già di iniziare i lavori entro giugno e l'obiettivo nostro è quello già di cablare almeno 10.000 unità immobiliari entro fine anno. È la fibra che non si ferma più agli armadi lungo strada e quindi poi riparte con il rame, ma è la nuova, voglio dire, l'architettura che è molto future proof, nel senso che arriviamo direttamente dentro gli edifici.